Oggi la festa nella festa, era il sogno di tutti. Voglio ringraziare comunque la squadra che mi ha regalato questo sogno. Io da Torrese per me è un sogno. Dedichiamo anche tutta Torre del Greco perché quest'anno ci è stata vicino ai tifosi di aggregazione. Rosario, cosa si prova? È meraviglioso. Sappiamo dal primo giorno che quest'anno era una piazza che poteva fare queste categorie. Contro la Sessana e oggi hanno dimostrato che meritano l'AD e anche altro. Adesso tocca a chi continuerà il progetto con il Presidente e speriamo che possa fare una turist vincente anche nei prossimi giorni. Assolutamente, abbiamo fatto grandi sacrifici. Dietro una vittoria ci sono tanti sacrifici e tanto lavoro fatto. Merito a tutti noi, alla piazza e al Presidente. Grazie, grazie.